Ha aperto ai visitatori presso l'ufficio relazioni con il pubblico la mostra d'arte figurativa e astratta racconta il tuo Piemonte attraverso la storia, la letteratura, le sue bellezze architettoniche promossa dalle sezioni arti visive della regione Piemonte. L'esposizione, visitabile fino al 3 settembre, raccoglie 32 opere pittoriche e 4 creazioni in ceramica.